di un nuovo Parlamento in qualche modo. Sì, noi torniamo sulle riforme costituzionali, oggi Renzi smentisce se stesso, dice che non era vero che il Senato può tornare elettivo, cioè i cittadini non potranno scegliere i senatori, per noi questo è comunque continuamente un problema, la riforma tornerà in Senato e lì ci sarà una battaglia politica che non riguarda solo il PD o la sinistra, ma riguarda tutto l'arco parlamentare e poi porremo anche la questione sulla mancata discussione che c'è stata alla Camera dell'Italicum e la possibilità di presentare un referendum o più di uno per cambiare delle cose che nell'Italicum non funzionano, non vanno bene. Renzi ha messo insieme nominati e preferenze, quindi ha fatto due cose sbagliate perché ci volevano i collegioni nominali, ha lasciato un premio che può andare a una lista che magari al primo turno prende il 20%, quindi guadagna una sproporzione di parlamentari, noi su queste due cose vogliamo intervenire e chiediamo con molta umiltà, anche perché non ho più un partito, sono nel gruppo misto, sono da solo, chiediamo con molta umiltà alle altre forze politiche di aderire a un'ipotesi del genere e vediamo quale sarà il risultato, gli obiettivi sono chiari. Tanto a lui che aderli con me.